Nella notte tra lunedì e martedì, dei malviventi si sono introdotti nell'azienda Giordanella Pneomatici. I ladri, dopo essere entrati dal vicino, hanno preso le chiavi e si sono introdotti all'interno dell'officina, impadronendosi di un'autovettura e di un furgone sul quale hanno caricato decine di pneumatici nuovi. Inoltre, si sono appropriati di un portatile e dei soldi che erano all'interno della macchinetta del caffè. Stando ad un veloce inventario, il danno sarebbe di qualche decine di migliaia di euro, ma ancora non definitivamente quantizzato. La ditta si trova in Contradamauto, sulla strada provinciale Modica-Giarratana, un'arteria a scorrimento veloce, non molto illuminata, consendendo così ai malfattori di agire in tranquillità. Una mara sorpresa per i proprietari dell'attività, quando l'indomani mattina hanno aperto. Subito hanno chiamato la compagnia dei carabinieri di Modica attraverso il 112, i quali hanno inviato una propria volante per le prime constatazioni. I militari dell'arma hanno avviato le indagini dopo aver raccolto elementi utili all'individualizzazione dei malviventi e acquisito le immagini della videosorveglianza. La ditta non era coperta da assicurazioni per eventi del genere, perché la zona in genere è territorio di caccia per i malfattori che hanno concentrato da sempre la loro attenzione sulle case e sulle villette della Contrada. Sul profilo Facebook Stefano Giordanella, uno dei proprietari dell'azienda, reagisce scrivendo Ci avete rubato tutto, ma non la voglia di lavorare.